A Spoltore, in via del Mattatoio Vecchio, l'inaugurazione del Centro Servizi dell'ASL, già attivo da circa tre mesi. Si tratta di una sede temporanea. Sono infatti già in corso i lavori all'immobile precedentemente utilizzato in via del convento che sarà riprogettato e ricostruito ex novo grazie ai fondi del PNRR. La medicina territoriale è la salvezza del futuro sistema nazionale. A sottolinearlo il direttore generale dell'ASL di Pescara, Vero Michitelli. Intercettare la malattia prima che arrivi all'ospedale è fondamentale. L'ospedale deve rimanere una struttura per acuti. Il territorio quindi deve accogliere tutte quelle istanze sanitarie non acute che liberano l'ospedale da una pressione che diventa sempre più eccessiva. Quindi il territorio va premiato, come stiamo facendo a Spoltore. Noi abbiamo spostato questo centro di erogazione e servizi in questa nuova sede bellissima, funzionale, per dare la possibilità di ristrutturare la vecchia sede che ospiterà la nuova casa di comunità. Una struttura finalizzata a potenziare l'assistenza territoriale per intercettare tutte quelle patologie croniche, gli anziani, i fragili, che devono avere una risposta sul territorio e non in ospedale. Dunque è fondamentale avere un servizio sul territorio. La sindaca di Spoltore, Chiara Trulli. Sì, per Spoltore è molto importante, anche perché questa operazione fatta dalla ASL e con tra l'altro il locale comunale in via del convento, che sarà completamente ristrutturato, ci dà la possibilità di mantenere il presidio sanitario su Spoltore nel centro urbano e di dare servizi ai cittadini di prossimità che sono importantissimi. Tuttavia non è passata, per così dire, sotto traccia la protesta civilissima di un cittadino di Spoltore che per conto della madre ha prenotato una elettromiografia semplice. Per la prestazione dovrà aspettare ben 580 giorni. L'assessore regionale Nicoletta Veri non si sottrae, anzi rivela una novità molto importante. Posso dire che abbiamo messo in atto una delibera, secondo le indicazioni del Ministro della Salute. Abbiamo individuato il responsabile unico delle liste per l'abbattimento delle liste d'attesa. C'è un gruppo tecnico che sta lavorando quotidianamente, proprio ieri pomeriggio si sono incontrati, per portare avanti nuove procedure e poter diminuire nel più breve tempo possibile queste liste che purtroppo esistono ancora.